Ma buon salve e benvenuti in questo nuovo video, si torna a parlare di Better Call Saul 6 stagione. Oggi parleremo del decimo episodio completamente con spoiler, quindi mi raccomando siete stati avvisati. Ora, partiamo subito dicendo che questo episodio mi ha impartito una grande lezione. Lezione che in realtà avrei già dovuto sapere da un pezzo, soprattutto per una persona che cerca un minimo di parlare di cinema e serie tv sul proprio canale. E invece no, ci sono cascato con tutte le scarpe e non ho seguito la prima regola. La prima regola quando si parla di cinema e serie tv è mai fidarsi di IMDB. O meglio, IMDB è un sito molto affidabile per quanto riguarda le informazioni su film e serie tv, ma è molto affidabile nel momento in cui il film o l'episodio di turno è già uscito. A prendere informazioni da IMDB prima che l'episodio di turno esca è la stronzata più grossa che si possa fare, perché IMDB come Wikipedia è aggiornato dagli utenti e gli utenti molte volte sono degli stronzi che vogliono soltanto trollare e mettono informazioni a caso. Nello scorso video vi ho detto che questo episodio si sarebbe dovuto chiamare Bromo e Bario, in realtà no, quell'informazione l'avevo presa da IMDB. Per di più, per un certo periodo su IMDB il cast di questo episodio comprendeva Brian Cresson ed Aaron Paul. Meno male che non ve l'ho detto perché sono doppia figura di merda, perché in realtà non è vero, non sono comparsi Walter e Jesse in questo episodio. Ma tant'è, è andata così, chiedo scusa per la cavolata, non succederà mai più, almeno spero. Farò penitenza in qualche maniera, magari dirò 10 Padre Nostro e 5 Ave Maria e guarderò tipo il terzo e quarto episodio di Moon Knight così in loop per farmi del male fisico, ma possiamo procedere. Ora, Nippi appunto, decimo episodio di Better Call Saul, episodio che ha destabilizzato molti e adesso ci arriviamo, ed è anche un episodio molto particolare. È la prima volta nella sesta stagione di Better Call Saul che il titolo di un episodio comprende soltanto una parola. Di solito il format è parola X, unito poi è congiunzione, parola Y, invece a sto giro è soltanto Nippi. Anche la sigla cambia, la solita sigla diciamo trasmessa in televisione si sminchia totalmente, adesso vediamo lo schermo blu che appunto mostra il logo della serie. Tante robettine che cambiano, questo è anche il primo episodio che si svolge nel post Breaking Bad, quindi nel presente, questo episodio è totalmente in bianco e nero e devo dire che mi ha soddisfatto veramente la grande. Certo, era l'episodio che mi aspettavo, assolutamente no, anzi nessuno si aspettava di vedere un episodio del genere, ma devo dire di essere rimasto veramente colpito in positivo. Non sono d'accordo con chi pensa che questo episodio sia un'interruzione brusca della narrazione principale, secondo me questo episodio che in realtà a livello di contenuti non offre tantissimo, è diciamo l'ultima avventura di Sleeping Jimmy. Vediamo un Jimmy barra Sol barra Jean che cerca di rimediare al casino che è successo negli scorsi episodi, quindi qualcuno lo ha riconosciuto. Lui decide di non ricorrere all'uomo degli aspirapolveri e di risolvere la questione da solo e per farlo dovrà tornare ad essere Sleeping Jimmy un'ultima volta. Ripensando quindi ai bei momenti andati, che però appunto sono andati ormai. Tutto l'episodio gira attorno al concetto già spiegato da Walter in Breaking Bad, nel finale di Breaking Bad, ossia mi piaceva farlo, ero bravo a farlo, mi sentivo vivo. E' esattamente quello che sta passando Jimmy barra Sol barra Jean in questo momento. Lui amava essere Sleeping Jimmy, essere Sol Goodman, quindi una persona che riesce a ottenere ciò che vuole non seguendo le regole, facendo un po' seguendo le proprie regole, ma questo l'ha portato ad essere praticamente una persona sola che ormai non ha più nessuno e ormai i bei tempi sono andati, non si potrà più tornare indietro. Mi è piaciuto veramente tanto questo episodio perché aggiunge un tassello in più appunto alla caratterizzazione di Sol e quindi non è un episodio che interrompe bruscamente la narrazione. Qui avviene una parte della crescita importantissima per il protagonista. Partiamo dalla fine, è proprio la sequenza finale in cui Sol si guarda allo specchio provando la camicia proprio tipica alla Sol Goodman con tanto di cravatta fantasiosa e poi lascia andare quegli indumenti e se ne va via, come a dire l'era di Sol Goodman è finita. È un elemento abbastanza importante per il protagonista, quindi per me non è un episodio da buttare via, anzi poi è anche diretto magnificamente da Michelle McLaren, la regista principale di Breaking Bad che ha diretto più episodi. L'informazione che avevo preso da IMDB questa volta era giusta è appunto la regista che ha diretto più episodi in Breaking Bad e ha fatto un lavorone. Parte il fatto che riuscire a gestire un episodio tutto in bianco e nero e non renderlo piatto anche a livello di colori, perché un episodio in bianco e nero non significa un episodio privo di colori. Comunque la fotografia fa tantissimo a livello visivo, ma anche la regia veramente spettacolare. C'è una sequenza centrale con una crescita della tensione costante, con tutta la sequenza della truffa, con appunto Sol che distrae la guardia mentre Jeff il tassista cerca di rubare più robe possibile, poi inciampa come un pirla e poi ne parliamo di Jeff e quindi Sol deve improvvisare. Perché è veramente diretta benissimo. Anche quella scena è molto importante per la caratterizzazione di Sol, perché quello che dice Sol alla guardia, ossia sono rimasto solo, non ho nessuno, ho perso la mia famiglia, ho perso il mio fratello, se morissi adesso non importerebbe a nessuno, e sia una bugia che sta dicendo in quel momento la guardia per distrarlo, sia qualcosa di tremendamente vero. Porca miseria. Ci sono anche un sacco di collegamenti a ciò che è successo prima, ovviamente il più palese a Breaking Bad, con Sol che parla di Walter, di questo insegnante di chimica che è venuto a bussare alla sua porta, collegamento anche in diretto, assolutamente non voluto al fatto che Walter sia colui che bussa, vabbè, stronzate a parte. Ci sono anche collegamenti più delicati come la guardia baffuta, non quella baffuta, l'altra guardia, è un personaggio già comparso nella seconda stagione, credo, di Better Call Saul, perché appunto si trova Sol immischiato a una rapina, c'è questo ragazzo che ruba un CD, credo, musicale, la guardia lo arresta e Saul grida, chiama un avvocato, cosa che effettivamente poi verrà riportata dalla guardia in questo episodio, dicendo, ah ma quindi tu sei quello che ha gridato, mi ricordo di te sei quello che ha gridato, chiama un avvocato al ragazzo, o anche il nostro caro Jeff, il tassista, che appunto è un po', diciamo, il motore di questo episodio, il tassista che riconosce Saul nella quarta stagione, nell'episodio, nel primo episodio della quarta stagione, e che poi gli si avvicinerà nella quinta stagione dicendogli ti ho riconosciuto, di la frase, Better Call Saul, insomma, è quel personaggio lì. Ecco, questa è forse l'unica pecca che imputa a questo episodio, proprio il personaggio di Jeff, che non mi ha dato fastidio di per sé, ma bisogna parlare di due cose. Hanno cambiato l'attore, l'attore che avevamo visto nella quarta e nella quinta stagione non è lo stesso attore che vediamo in questa, il personaggio è lo stesso, sono andato a ricontrollare effettivamente, sì, nella quinta stagione viene chiamato Jeff, qui viene appunto richiamato Jeff, quindi è lo stesso personaggio. Il fatto che abbiano cambiato l'attore non è un grossissimo problema, perché ci sta, poi a quanto pare è successo perché l'attore vecchio aveva degli obblighi contrattuali con HBO, quindi non poteva lavorare per Better Call Saul, hanno fatto un recasting, ci sta, ma hanno proprio cambiato la caratterizzazione del personaggio, perché Jeff nella quinta stagione era molto più inquietante e subdolo di quello che vediamo qui. Qui un coglioncello veramente che vive con sua madre, che inciampa in quella maniera che manco fantozzi, insomma l'hanno abbastanza cambiato come personaggio, anche il modo in cui recita l'attore è proprio completamente diverso, e in una serie tv normale non me ne sarei manca accorto, in Better Call Saul che reputo una serie tv vagamente sopra la media, mi ha dato un po' fastidio, però veramente questo è l'unico problema che imputo all'episodio. Ora, idee per il futuro, sinceramente non vorrei fare grossissime teorie perché appunto mancano tre episodi, e già questo episodio qui mi ha completamente colto alla sprovvista, io non mi sarei mai immaginato un episodio del genere, un episodio in bianco e nero già così presto, anche se effettivamente serviva avere almeno un episodio post Breaking Bad che non fosse l'episodio finale, anche per far capire meglio lo spettatore cosa stia passando per la testa di Saul post Breaking Bad, insomma serviva un approfondimento del genere. Capisco sotto certi punti di vista il fatto che molti spettatori siano rimasti destabilizzati, ma per me non è per niente un brutto episodio, anzi ad avercene. Ora, ho visto la piccola clipettina che è diciamo lo sneak peek del prossimo episodio, che non ha ancora un titolo ufficiale, meno male almeno non dico stronzate, teoricamente il prossimo episodio almeno in parte dovrebbe svolgersi ancora post Breaking Bad, dovrebbe essere in bianco e nero, in questo sneak peek si vede praticamente questa inquadratura larghissima con questa macchina appunto in un paesaggio semidesertico in bianco e nero appunto, c'è questa macchina e si sente la voce fuoricampo di Saul che sta parlando a qualcuno e dice la seguente frase, anzi le seguenti frasi ce le ho scritte, lo capisco, te ne sei fatta una ragione, ossia get over it, che sarebbe te ne sei fatta una ragione, barra sei andata avanti, credimi, ti scorderai quello che ti ho appena detto ancora prima che io te lo dica, vai, sembra quasi che Saul voglia parlare con qualcuno che non vede da tanto tempo e che magari è andato avanti e sta cercando di convincerlo, barra convincerla a parlare, ora sta parlando con Kim, non ne ho la più pallida idea, potrebbe anche essere una frase che ho interpretato male io, perché diciamo che gli spot di Better Call Saul sono molto sibillini, molto vaghi, quindi potrebbe essere tutto e niente, io cercherò di non farmi troppe pippe mentali, troppe teorie, perché voglio prendermi tutto quello che arriverà in maniera veramente calma, tranquilla, in modo da non rimanere deluso o qualcosa di simile, almeno questo è il mio tipo di approccio, poi voi fate quello che meglio credete, sono curiosissimo ovviamente per il prossimo episodio, vediamo dove questa storia andrà a parare, so soltanto che non voglio che questa serie finisca. Ma tant'è, questo era tutto quello che volevo dirvi sul decimo episodio della sesta stagione di Better Call Saul, voglio sapere la vostra, fatemi sapere qua sotto con un commento cosa ne pensate dell'episodio, se vi è piaciuto o se non vi è piaciuto, sono veramente curioso, noi ci vediamo alla prossima, in generale ci vediamo, quando ci vediamo, ciao a tutti ragazzi! Ciao a tutti!